io sono così da luigi pirandello quando tu riesci a non aver più un ideale perché osservando la vita sembra un enorme pupazzata senza annesso senza spiegazione mai quando tu non hai più un sentimento perché sei riuscito a non stimare a non curare più gli uomini e le cose e ti manca perciò l'abitudine che non trovi e l'occupazione che sdegni quando tu in una parola vivrai senza la vita penserai senza un pensiero sentirai senza cuore allora tu non saprai che fare sarai un viandante senza casa un uccello senza nido io sono così chica quando tu narrrò è una storia senza età senza niente senza niente è una storia senza età no no